Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Un saluto ben trovati all'approfondimento. La pandemia fa ammalare anche la mente degli italiani che soffrono sempre di più di ansia, aumentano anche i disturbi del sonno e le paure. Per far fronte a questa sofferenza è partito il numero verde di supporto psicologico del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Tutti i giorni, dalle 8 alle 24, oltre 2.000 professionisti specializzati risponderanno al telefono oppure online alle richieste di aiuto. Il servizio sarà sicuro e gratuito, spiega il Ministero. Il numero verde 800 833 833 ha il sostegno tecnologico offerto gratuitamente da TIM. Il numero sarà raggiungibile anche dall'estero allo 02 20 22 87 33 e saranno previste modalità di accesso anche per i non udenti. È una risposta strutturata ed importante, messa in atto accanto a tutti gli sforzi della sanità italiana per fronteggiare al meglio la sfida del coronavirus. In questo momento è fondamentale essere vicini alle persone che hanno bisogno di un sostegno emotivo. Sono parole del Ministro della Salute Roberto Speranza che aggiunge bisogna dare ascolto alle loro fragilità, affrontare insieme le paure. L'obiettivo è fornire rassicurazioni e suggerimenti, aiutare ad attenuare l'ansia davanti a una quotidianità travolta dall'arrivo dell'epidemia e si risolve in un unico colloquio. Per rispondere all'esigenza di fornire un ascolto più approfondito e prolungato nel tempo le chiamate saranno indirizzate verso il secondo livello di cui fanno parte. Oltre ai servizi sanitari e sociosanitari del Servizio Sanitario Nazionale molte società scientifiche in ambito psicologico. Le richieste di aiuto saranno inoltrate dal primo livello anche in base alla loro specificità ad esempio psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza, dipendenze, psico-oncologia. I professionisti del secondo livello offriranno colloqui di sostegno ripetuti fino a quattro volte via telefono oppure online. Si cercherà di fornire consultazioni esperte attraverso un ascolto empatico del dolore e dell'angoscia connessa all'emergenza favorendo così l'attivazione di un processo di elaborazione del trauma. Il primo livello è composto da 500 psicologi dell'emergenza che fanno parte delle associazioni del volontariato della protezione civile Federazione Psicologi per i Popoli, la Società Italiana di Psicologia dell'Emergenza, il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, il Centro Alfredo Rampi. Al secondo livello partecipano oltre 1500 psicoterapeuti volontari di diverse società scientifiche. Grazie. Grazie.